o l'allenamento di rifinitura non ci siamo allenati in pratica mai hanno fatto solamente dei faticanti sono nati quelli che non hanno giocato quindi non so neanche le condizioni di quelli che sono scesi in campo dal primo minuto a pacenza vediamo un pochettino chi avrà recuperato totalmente o meno perché comunque domani si è data una partita dove ci sarà da correre tanto contro un avversario frizzante pimpante che c'ha gamba che che attacca la profondità che fa sempre giocare male chi è costretto a fare la partita e quindi anche l'aspetto fisico anche l'aspetto del recupero conteranno molto nelle scelte che farò è stata come avevo detto subito nel post gara paradossalmente meno sofferta e anche più meritata rispetto alla gara di pochi giorni prima contro la pistoiese però è stata una vittoria voluta è stata una vittoria meritata e ci tengo anche a sottolineare che le vittorie comunque con con la pistoiese contro il livorno non sono state casuali perché di casuale no non viene niente sono state volute sono state cercate ha avuto un pizzico di fortuna in più con la pistoiese con con il livorno non può certo dire che di non aver meritato la vittoria a piacenza c'è stata una dimostrazione di forza di voglia anche di ritrovata gamba di ritrovata aggressività in in un contesto di un equilibrio tattico importante perché poi nel momento in cui il piacenza ha provato il forze che finale cambiando anche sistema di gioco non abbiamo mai perso la testa siamo sempre rimasti ordinati non abbiamo mai vacillato non abbiamo mai dato modo di pensare al piacenza che ce la potesse fare e questo è stato un gran bel segnale di maturità no guardo il ponte d'era poi dopo ci sarà la giana pensiamone una per volta no no perché c'è stato quel momento lì dopo che hai vinto a tutto cuoio che quella l'ultima vittoria che abbiamo fatto fuori casa non quella di quella di siena sinceramente ti auguravano di poter avere qualche punto in più o soprattutto nel momento in cui avresti avuto in maniera normale anche preventivata un mini calo psicofisico riuscire comunque a fare qualche punto in più rispetto a quelli che poi dopo siamo stati in grado di fare e così non è stato ci sono sei partite ne abbiamo quattro in casa pensiamo a dare tutto col ponte d'era perché chi verrà allo stadio pensando che possa essere semplice per l'arezzo pensando che non ci sia da soffrire magari anche essere costretti a difenderci in 11 nella nostra metà campo vuol dire che ancora non si è reso conto di quello che è questo campionato delle difficoltà che ci sono in ogni gara e di quello che talvolta è necessario per riuscire a portare a casa i tre punti